Sempre operativa e a servizio della comunità, anche la Croce Rossa di Marotta Mondolfo è in prima linea nell'emergenza sanitaria. Con 204 volontari e 14 dipendenti, continua a dimostrare un grande impegno e senso civico nel combattere questa guerra. Noi oggi ci siamo recati nella sede del Comitato, che funge anche da Centrale Operativa 118. Dare un pensiero a tutte le famiglie che purtroppo in questo momento terribile hanno perso dei loro cari e una preghiera per quelli che stanno lottando contro questa emergenza. Detto questo, sì, il Comitato di Marotta Mondolfo è da 35 giorni operativo H24, sempre per questa emergenza. Noi in questo mese stiamo mettendo a disposizione un'ambulanza di tipo A a supporto della Centrale Operativa, in più dell'altra che abbiamo sempre qui nella nostra sede, gestita dall'azienda sanitaria, per i ricoveri coronavirus del momento. In più abbiamo attivato un supporto psicologico, che è un'attività molto delicata ma anche importante. Si tratta di dare un supporto in primis a tutti i volontari, che purtroppo anche loro hanno avuto delle problematiche, i nostri dipendenti, e poi adesso in collaborazione con il Comune l'abbiamo estesa a tutta la cittadinanza. Le difficoltà quotidiane però non sono poche, a partire dalla pulizia e sanificazione di ogni mezzo di soccorso. A rendere più semplice il lavoro ci stanno pensando i tanti cittadini e le associazioni del territorio con le proprie donazioni, ma in particolare Oasi Confartigianato di Fano e Marotta, in collaborazione con il Consorzio Senigallia Spiagge, ha deciso di acquistare e regalare alla Croce Rossa un macchinario all'ozono, che è di grande aiuto al personale e garantisce il massimo dello standard richiesto per l'igiene. L'apparecchiatura viene messa a disposizione anche della protezione civile locale e di tutte le forze dell'ordine, che hanno la necessità di sanificare i mezzi d'emergenza. La procedura ritorna l'equipaggio dopo aver trattato un paziente positivo, va di sotto nel garage, sanifica con questa macchina, 40 minuti la macchina deve stare ferma, chiusa, una volta sanificato uno degli autisti o volontari sale con la tuta, calzari, occhiali, guanti e pulisce definitivamente tutta la macchina. È una macchina che costa 2.200 euro, è stata interamente acquistata da questa associazione che noi ringraziamo.